Uno dei massimi esponenti dell'avanguardia poetica italiana, fondatore del gruppo Fiesole 97 e del movimento Schalke 04, è con noi questa sera Brunello Robertetti. Buon ser, mi chiama Brunello Robertetti, nasco poeta e vado avanti così. Sono un fans appassionato e potenziali pericolosi del signor Valeria Marino. Lo sono in maniera disacerbante, non guardo in faccia a nessuno, ho rispetto per gli omosessuali e i negri, purché i due fenomeni non si presentano contemporaneamente. Ora dico un poesia. Telefona ore pasto per capire, per vedere insieme. Telefonami ore pasto per amarci, per provare. Ho fretta di te del tuo sapore sulla mia bocca amare di considerazione. Ho bisogno di vedere te piuttosto che un'altra persona. Ho bisogno di vedere piuttosto te di un altro apporto che possono, sono superficiali e non struttivi. Noi due. Con quante parole si può esprimere l'amore? Con tre io credo. Amore. Amore. E' un'altra che non mi ricordo. Ora dico un poesia. Di fronte a tanta gente che parla, l'amore è sordomutum. Ma quel sordomutezzo che è col sorriso, che dice io sono sordomuto, ma per finta. Sordomuto solo a parole. Don Gelletta amoroso. Con testa, età fiorita e un giorno all'egresse. Cioè, questo è come il libro. Ora dico una poesia. Se mi vedi triste, non piangi, perché tristesse è il piacere di trovare insieme. Se mi vedi arrabbiata, non piangi, perché la rabbia che provo è il motore del... Amore che provo quando non sono arrabbiata. Se mi vedi normale, non piangere. Non ce n'è, veramente. Motivi. Se ti do uno schiaffo, porgi l'alto guance. Se no, pure la stessa, orgo io l'altra mamma. Più forte dell'odio è l'amore. Più forte dell'amore è Mike Tyson present. Se fossi fuoco, bruciavano. Se fossi acqua, bagnavano. Se fossi saponetto, strofinavano. Se fossi acqua, un'altra oltre, sciacquavano. Quanti sensi ha l'uomo? Cinque. Per sentire, vedere, toccava, colore, profumo. Quanti sensi ha la vita? Cinque. Nascere, ragazzo, persona, ammalato, funerale. Quanti sensi ha la terra? Cinque. Aria, terreno, scotta, acqua, verdura. Quanti sensi ha l'amore? Cinque. Conoscere, confessione, appuntamento, sposata, sempre sposata. E ora alcune rime che ho scritto per voi. Proprio tre rime. Amore, motore. Cane, pane, gatto, esatto. Oh, del rime che sto. Sentimenti. Ogni mattina, come Narciso si specchia nel ruscello retrovisore, io mi specchio in te e nei tuoi occhi mi rado. La prima lama solleva il pelo, la seconda lo taglia, la terza gode. Don Zelletta scherzoso. Che troppo vuole, nulla facente. Ora dica una poesia. Se fossi cane, abbaglia. Se fossi gatto, miau. Se fossi tardi, ciao. Un bel applauso, grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Occhio, chiuso. Poeta. Ciao. Io sono il suo avvetto. Perfetto. Grazie. Può andare, grazie. Grazie. Ora dica una poesia. Un'altra. Una e poi basta. Una poesia. Con quanti nomi puoi chiamare Dio? Puoi chiamarlo se vuoi, mille maniere. Dio, Visnu, Budo, Amst, Christ, Christ, God, Allah. Tanto non ti rispondo. Adesso ti chiamo. Grazie. I tuoi segni come mele rotonde. E' fresca, pronta per l'uso. I tuoi occhi anche belli. Un grande applauso per te. Poeta. Un grande applauso per te.